E' d'agosto, devo andare a punto di parte, devo andare a punto di parte. Un giorno metto, un giorno lunga, ho andato a quella di busto. Non avevi una macchina una volta? Una volta, me l'hanno distrutta. Chi? L'avevo fuori, partendo la macchina, ora l'apriamo. Chi? Ora erano altri scemi. Eh? Per farmi un dispetto, mi sono andato addosso e me l'hanno buttato in spargimento. La macchina? La macchina. Non era vecchia. L'hanno buttato con 700.000 litri. A me delle 700.000 litri, io mi pregavo. Era vecchia, la scrutava e andava bene. Infatti, andava anche a fare delle belle girate, ricorda. Si, con 700.000 litri mi spugno. Ciao. Ciao Adriano.